Musica Musica Amici di Teleuniverso benvenuti anche a questo numero di Spazio Libero. Le elezioni del prossimo 4 di marzo si vota per rinnovare la Camera, il Senato, la Regione Lazio. In Regione torna un volto conosciuto a questo territorio, Antonello Iannarilli. Buonasera. Grazie, il buon auspicio. Antonello Iannarilli che è stato l'ultimo presidente della provincia di Frosinone, eletto con la vecchia normativa, strappato la provincia al centro-sinistra. È stato per due volte deputato, per due volte consigliere regionale del Lazio, è stato per il terzo mandato, era stato assessore regionale all'agricoltura. È stato anche coordinatore provinciale del partito, a un certo punto ha lasciato spazio ad altri, rientra in campo. Perché? Io lo spazio l'ho lasciato ad altri perché non ho condiviso la famosa scelta politica di appoggiare Pompeo alle elezioni provinciali. Non potevamo sostenere un candidato sindaco che faceva parte di un gruppo politico e abbiamo combattuto e vinto nella mia campagna elettorale. Da lì è iniziato un po' un distacco da quel percorso del mio partito, mi sono messo a fare altre cose grazie a Dio perché non vivo di politica e adesso al momento giusto avevo chiesto al mio partito se c'era una possibilità di candidatura, mi è stato detto ok c'è ma solo la regione perché Camera e Senato per giochi di spartizione non è possibile farlo. A quel punto 4 giorni di riflessione personale perché tornare a fare il Consiglio regionale significa rimodificare la mia vita perché ormai sono tornato ad essere un piccolo imprenditore a tempo pieno. Ho fatto questa scelta di riprovare a essere eletto Consiglio regionale sperando anche di vincere come Presidente Parisi. Si può pensare di ritornare al governo nel mondo dell'agricoltura che lo farei volentieri dopo tutto quello che ho fatto e ancora oggi il segno dei miei cinque anni è rimasto fermo nella mente, nei pensieri di tanti dirigenti ma soprattutto di tanti agricoltori. Ecco perché ho scelto di tornare in campo, primo per l'esperienza, non ci possiamo dimenticare quello che è successo in Regione con l'inesperienza di consiglieri regionali o altri componenti dell'Assise. Allora questa scelta nasce proprio perché voglio mettere a disposizione del mio territorio, della mia Regione e ho tre concetti per me importanti oltre che tutti sanno che se uno, che il momento che ricopro ore lo fa a tempo pieno non ho tempo perso. L'onestà perché in 24 anni di amministrazione pubblica e politica non sono stato mai sfiorato da nessun'indagine. E quindi questo in un contesto politico attuale dove nasce il populismo perché si attacca la cattiva gestione della politica dove qualcuno pensa che siamo tutti uguali ma l'abbiamo sempre detto anche in queste trasmissioni che non siamo tutti uguali, io mi sento una persona da come lui si vince dai fatti, una persona onesta che lo fa politica in maniera diversa, con passione e dico sempre di guardare anche al passato di una persona politica di quello che ha fatto anche nel mondo del lavoro perché è fondamentale conoscere la storia di qualcuno quindi il primo concetto è quello dell'onestà e che in questo momento non è poco, posso bantarmi tra virgolette di questo fatto la seconda è l'esperienza e anche su questo sfido chiunque a parlare diciamo dei vari candidati che ci sono da regione tutti i partiti, escluso forse in piccola parte qualche assessore uscente ma poi di fatto nessuno ha la mia esperienza amministrativa fatta come tu hai accennato da tre legislatori regionali, due parlamentari e presidente della provincia, ultimo eletto dal popolo questo mi fa ancora di più orgoglioso di poter mettere in campo e a disposizione del mio territorio la mia esperienza la terza che non è come peso minore è la coerenza io ho detto già che abbiamo visto già da qualche anno ma in questo ultimo mese una transumanza di magliette politiche che credo non abbiamo mai visto ho detto anche che c'è stata una transumanza obbligatoria inevitabile perché c'era un muro davanti e una transumanza invece perché qualcuno deve sempre cercare una casella per potersi collocare e allora questo fatto che io invece sono 23 anni che sono rimasto legato al mio partito ai principi liberali di Silvio Berlusconi io riconosco ancora oggi Silvio Berlusconi che è il leader indiscusso del centro-destra anche se ho avuto momenti di difficoltà dove sono stato contattato da vari partiti a cambiare un maglietto soprattutto perché mi vedevano un po' messo da parte ma che sta a fare in forza Italia io ho sempre detto non c'è problema io al momento, non solo al momento, rimango dove sto se non ci sta spazio per me non fa niente e continuo a fare quello che ho fatto invece oggi si è aperta una porta diversa e credo anche qui mi posso vantare di dire perché ce ne stanno pochi e pensando un po' ai candidati che giro nessuno o quasi nessuno può dire che sta 23 anni in un partito e non è mai andato via Rispetto alle scorse elezioni c'è il fenomeno del Movimento 5 Stelle qualcuno dice che Antonello Iannarilli è un grillino di destra Sicuramente io sono uno che come tu mi conosci che non sta sempre nelle regole nel senso, nelle regole ci sono nell'attività amministrativa ma non subisco, non sopporto e se qualcuno mi vuole far fare qualcosa perché vengono input dall'alto o da lobby io sono quello che fa il contrario di quello che mi è stato chiesto quindi sicuramente posso avere diciamo una mia indole rigida forte su determinati temi e determinate scelte certo il grillino io non lo accetto soprattutto per la totale assenza sul territorio noi abbiamo un candidato già eletto possiamo dire Frusone che i cinque anni dall'Atri non l'abbiamo visto insomma per dire non hanno poi questo radicamento nel territorio non hanno stiamo vedendo anche capacità amministrative perché dove governano ci sono delle difficoltà fermo restando che spero che gli italiani soprattutto anche i sociali possano scegliere persone che hanno esperienza e che hanno quelle caratteristiche che loro oggi portano la bandiera dell'onestà quindi a me tutto mi si può dire meno quello che possono accusare i grillini a chi fa politica Perché oggi dovremmo dare la preferenza a Antonello Iannarilli quello di alcuni anni fa lo conoscevamo e quello di oggi? Ma proprio perché ho accumulato esperienza anche un po' di saggezza tra virgolette perché poi l'esperienza ti forma ti fa capire tante cose credo di poter essere io spero di vincere le elezioni regionali ma penso di essere una persona che sicuramente nel ruolo che andrà a svolgere conosce la macchina amministrativa conosce dove poter inserire poste in bilancio della regione anche all'opposizione uno che sicuramente può ancora fare molto per il suo territorio quindi io credo che nei confronti di altri candidati io mi auguro comunque e mi rivolgo soprattutto al popolo di Forse d'Ale certo pure ad altri che però insomma chi ha già scelto e è uomo di partito è difficile che mi dà la preferenza però al popolo comune all'agente comune ma soprattutto perché sono ancora convinto di poter fare delle battaglie col mio ruolo molto più incisivamente di quello che oggi posso anche fare ma non avendo un ruolo amministrativo quindi hanno delle motivazioni secondo me forti anche nei tre concetti che ho detto cosa ha lasciato Antonello Iannarilli a questo territorio con gli anni che ha trascorso al Parlamento alla regione da consigliere e da assessore e da presidente della provincia beh guarda a me l'unica cosa che dispiace dal presidente della provincia che purtroppo siamo capitati in un'epoca dove hanno cancellato le province tu ricordi la mia protesta forte di riconsegnare il gonvalone e devo dire oggi con piccola soddisfazione perché quando vediamo che la comunità europea richiama il governo italiano per la cancellazione delle province vuol dire che forse qualche ragione non ce l'avevamo di protestare contro una cancellazione di un ente che veramente è stata fatta senza né capo né coda quello che dispiace è che la provincia si sarebbe voluta qualche anno in più per poter migliorare e dare delle risposte il tempo è stato poco sono stati 4 anni con mille difficoltà nella gestione dell'ente anche a livello di dirigenza abbiamo avuto mille problemi forse tu qualcosa ricorderai però abbiamo rimesso in sesto infatti credo che Pompeo abbia trovato una provincia solida mi ricordo che avevamo ritirato fuori che c'erano circa 80 milioni di euro che la provincia doveva prendere dai vari enti diciamo tra la regione e il ministero abbiamo diciamo dato un segnale di un modo diverso di gestire un ente pubblico della provincia nella regione Lazio penso che posso vantarmi anche qui del mio assessorato all'agricoltura di aver portato l'utilizzo dei fondi comunitari al 140% fui premiato come prima regione d'Italia e quarta in Europa proprio perché mettiamo in modo con la dirigenza dei meccanismi di agevolare al massimo il cittadino dell'agricoltore ad usare i fondi comunitari e siamo stati quelli premiati perché poi quando non si usano si viene premiata la regione che ne fa uso diciamo maggiore come percentuale e quindi un altro passaggio parlamentare posso raccontare poco sono stato un uomo diciamo corretto ho sempre votato quello che chiesto il mio partito escluso l'abolizione delle province che non l'ho votata d'altra parte il parlamentare non ha quel potere tra virgolette territoriale deve d'altra parte il Parlamento fa leggifera norme nazionali e quindi la norma che verrà applicata qualsiasi sia è a livello nazionale non è a livello locale quindi sicuramente la mia incisione è stata poco però è chiaro che sono stato un uomo di squadra e ho rispettato le indicazioni di chi governava in quel momento che c'era Silvio Berlusconi Vi ricordo che Antonello Iannarilli è candidato alla Regione Lazio per votare Antonello Iannarilli quindi è necessario scrivere la preferenza dove accanto al simbolo di Forza Italia che trovate nella scheda per le regionali va scritto Iannarilli attenzione è possibile dare due preferenze ma devono essere date a due persone candidate nello stesso partito quindi un uomo e una donna altrimenti non è valido il voto Antonello Iannarilli quindi consiglia di votare Iannarilli e Graziani Teresa Graziani per cui per dare la preferenza Antonello Iannarilli bisogna scrivere Iannarilli accanto allo spazio di Forza Italia nella scheda per le regionali e se volete dare anche la quota femminile e la quota rosa scrivere anche Graziani si vota solo e soltanto un giorno la prima domenica di marzo grazie grazie l'onorevole Iannarilli grazie a voi a casa ci vediamo al prossimo numero buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti